ciao a tutti buongiorno e benvenuti sul canale questa mattina mangio un mini cupcake che ho fatto io con sopra questo ovetto al cioccolato confettato e poi mi bevo un tè quindi una piccola colazione una colazione veloce ma comunque abbastanza dolce pranzo preparato questi fusilli con un sughetto fatto col granchio io prendo la polpa di granchio la faccio rosolare con un po di olio un pochino di aglio e un po di prezzemolo e ci condisco la pasta pomeriggio faccio uno spuntino merenda con due tre di questi prezzel che sono cotti al forno sono sottilissimi croccanti e sopra ci sono i semi di sesamo e bevo anche un bicchiere d'acqua per cena ho preparato un come dire uno sformato di patate e di pesce eccolo qua con in mezzo un po di gamberetti merluzzo e salmone poi come contorno le zucchine fatte al forno con il sesamo e quindi finisce qua questa giornata dietetica più o meno spero che il video vi sia piaciuto se così lasciatemi un like iscrivetevi al canale se vi va andate a vedere la playlist delle ricette perché lì troverete nelle ricette dolci la ricetta dei cupcake alla vaniglia se li volete rifare vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao lasciate un like se il video vi è piaciuto vi do appuntamento al prossimo video